Marco, nuovo impegno in trasferta per l'APU Allwell West Udine che domani alle 18 affronterà la neopromossa Rimini, che avversario dobbiamo attenderci? Sicuramente un avversario che ha voglia di vincere un'altra partita perché ha appena vinto domenica scorsa la prima partita in casa, segnalano tanti punti. Abbiamo visto in settimana che è una squadra che ha un gran bel entusiasmo tra di loro e quindi dovremmo stare molto molto attenti. Nelle file del team Romagnolo c'è una vecchia conoscenza, Jess Johnson, che lo scorso anno ha vestito la casacca di Pistoia. 20 punti di media in questa via di stagione per l'americano, è lui un po' il faro del gioco del team Romagnolo? Sì, sicuramente lui è il faro, però direi che sono tutti importanti all'interno di quella squadra. Come ti dicevo prima c'è un gran bel entusiasmo, poi hanno ottenuto diversi giocatori che hanno portato Rimini in A2 e anche loro vogliono dimostrare che ci possono stare in A2. E quindi direi che dobbiamo stare attenti a tutti i giocatori che entreranno in campo. La Più arriva dalla sconfitta con Tramec100 dovuta sicuramente anche alle tante assenze, una gara che si è definita soltanto nei secondi finali. C'è voglia di vincita da parte vostra dopo quel passo falso? Ma sicuramente perché in casa, davanti al nostro pubblico, soprattutto nel campo dove ci alleniamo tutti i giorni, vogliamo vincere sempre. Perché comunque il nostro fortino deve essere il nostro fortino. Noi dobbiamo sentirci ancora più forti in casa nostra. E quindi è stato fatto un passo falso sicuramente. Abbiamo sistemato in settimana delle cose che non sono riuscite bene in quella partita. Quindi continuiamo a crescere, la stagione sarà molto lunga e settimana dopo settimana ognuno di noi crescerà ulteriormente per far sì che le sconfitte siano pochissime. La nota lieta di quel confronto è stata sicuramente a Esaia Brisco che ha dimostrato di essere il giocatore di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi. È l'uomo in più la punta di diamante di questa squadra? Guarda, sicuramente Esaia ha disputato una gran bella partita, è un giocatore forte, ha delle doti che in questa squadra servono. Però ti direi che in questa squadra siamo tutti quanti importanti. Il roster è stato costruito lungo, il nostro allenatore cerca dei protagonisti diversi partita dopo partita e noi dobbiamo essere sempre pronti perché appunto ci deve essere un protagonista diverso partita dopo partita. E quindi direi che nel roster vedremo settimana dopo settimana un giocatore diverso che dovrà essere la punta di diamante. E quindi direi che dovrà essere la punta di diamante.